Presidio del movimento agricolo spontaneo al mercato aquilano di Piazza Darmi, un luogo non scelto a caso. Il mercato ha infatti il punto di congiunzione tra l'offerta che arriva da parte dei produttori del comparto primario e la domanda che invece c'è da parte dei consumatori. Insomma, il posto giusto per continuare a fare vera e propria sensibilizzazione sul campo rispetto a quelli che sono i problemi che stanno attanagliando il comparto agricolo. Il gasolio, fare chiarezza sulla PAC, l'IRPEF sui terreni. La carne sintetica, sono i stessi problemi che abbiamo in tutta Italia, ma scegliamo più prodotti non italiani che i nostri. Tra l'altro il presidio del movimento agricolo spontaneo arriva nel giorno in cui all'Aquila è prevista alla visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E l'obiettivo del movimento agricolo spontaneo è farsi vedere, ma soprattutto ascoltare, portando idee e soluzioni che arrivino direttamente da chi quotidianamente vive di agricoltura ed allevamento. Speriamo che ci accogli a parlare in due parole di questo problema che stiamo facendo questi presidi, se no abbiamo deciso di andare a Roma. Da venerdì parte, già ci sono vari presidi, già ci sono alcuni trattori, se oggi non verremo ascoltati andremo lì.